È emersa la scuola del futuro, è emerso un luogo dove si va a costruire uno spazio per gli studenti, per le future generazioni, dove ci sarà non solo apprendimento, ma ci sarà anche possibilità di incontri, di socializzazione e di creare degli eventi sempre all'interno della scuola. Io credo che il progetto che abbiamo presentato questa mattina è bellissimo, è una cosa veneristica e tiene conto di tutte le nuove normative che richiedono l'edilizia Enzeb, risparmio energetico e quant'altro. Per cui io lo vedo come un progetto insieme al rifacimento di tutto il campo da rugby che diventa uno spazio enorme, un campus moderno per gli studenti che verranno a scuola a Fano. Noi siamo abbastanza soddisfatti, sicuramente abbiamo visto questo progetto, noi non siamo dei tecnici, ma con me c'erano anche rappresentanti della scuola, degli studenti, dei genitori, dei lavoratori della scuola. C'è sempre un progetto molto bello che risponde anche alle nostre esigenze. Abbiamo anche avuto occasione, l'avremo anche in seguito, di apportare qualche consiglio circa il numero di aule, metrature ed altro, spazi esterni. Ci sembra già un progetto molto soddisfacente. Adesso la cosa importante sarà la messa a terra, come si usa dire oggi, di questo progetto nei tempi più brevi possibili. Di qui a due o tre anni devono essere conclusi. Quindi i tempi non sono neppure lunghi. Adesso la cosa importante sarà trovarci insieme nelle prossime settimane con il comune di Fano e la provincia, anche per pianificare la collocazione degli studenti durante lo svolgimento dei lavori. Quel gruppo di studenti che insiste nel Plessonolfi, che durante lo svolgimento, almeno in parte, dei lavori dovrà essere collocato. Troveremo le soluzioni migliori dall'impatto meno negativo, più positivo sulla didattica. Perché si tratta poi della confluenza di due, addirittura forse tre, progetti complementari e contemporanei. Perché da una parte c'è il progetto con fondi concorrenti ministeriali e provinciali per l'ex Carducci, che verrà del tutto demolito e ricostruito nello stesso sito. E poi c'è un progetto regionale, che è arrivato anche recentemente, di intervento cospicuo anche su una parte del Nolfi, cui si aggiunge poi un terzo progetto, che è quello, anche questo misto provinciale, comunale e ministeriale, di intervento sull'area campus, sulla pista di atleti. Quindi tutta l'area del campus verrà completamente rimodellata, rivista da questa confluenza di progettazioni molto importanti, per importi anche molto consistenti, di cui beneficia l'intera area. È un momento importante, ormai ci avviamo alla progettazione esecutiva per poi appaltarla entro l'estate e realizzarla entro il 2026. Un momento importante, come dicevo, perché è una progettazione che guarda avanti, moderna, adeguata a quelli che sono nuovi schemi, parametri per una buona formazione. Quindi non nascondo la soddisfazione, adesso c'è stato questo tavolo importante dove sono stati coinvolti, informati anche oltre alla dirigenza scolastica, ma anche le rappresentanze, gli studenti e i genitori. Già dalla prossima settimana inizieremo a lavorare sulle soluzioni da adottare durante la realizzazione, perché ovviamente quando c'è un cantiere ci saranno disagi, però come mi piace dire, i disagi passano, le opere rimangono.